Venerdì 7 novembre alle 20 e 30 all'interno delle cupole geodetiche nella zona archeologica di Pestum si terrà la presentazione delle società sportive che operano nel comune di Capaccio Pestum. Sarà l'occasione per le società per presentare le loro attività, gli atleti e i campionati a cui prenderanno parte. L'amministrazione comunale, che sarà rappresentata dal sindaco Italo Voza e dal consigliere delegato allo sport Franco Sica, coglierà l'occasione per fare i propri auguri per l'anno sportivo 2014-2015 ad allenatori, preparatori e atleti. Naturalmente l'evento sarà anche un'occasione per tutti i cittadini che vorranno partecipare per conoscere le numerose discipline sportive che è possibile praticare a Capaccio Pestum. Inoltre gli atleti che praticano le singole attività sportive avranno l'occasione per conoscere anche le altre. Nel corso della serata verrà presentato il premio Salvatore a Padula, rivolto agli allenatori, delle squadre di calcio della Cittadina dei Templi, il parroco della parrocchia della Madonna di Loreto, Don Carlo, benedirà gli atleti e verranno letti il giuramento dello sportivo e la carta etica dello sport.